Iniziamo, buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla riunione, al meeting italiano della community Blender Italia. Allora, mi presento brevemente, io sono Priscovici Domini, sono anch'io un associato dell'associazione Blender Italia, vivo in Olanda da sette anni, mi occupo di comunicazione online più o meno da venti. E da tre anni, seguendo appunto gli sviluppi della Blender Conference, mi sono appassionato a Blender, ho iniziato anch'io a lavorare nel tempo libero e nei weekend a un progetto personale. Quest'anno sono, diciamo, portavoce per nome del Presidente Alessandro, perché vivendo qua è più facile per me spostarmi e venire qui. Quindi, a nome del Presidente vi do il benvenuto, vi ringrazio per essere qui, è bello vedere le eccellenze italiane, consentitemi di dire, che presentano sempre più frequentemente anche durante la conferenza e vedere il vostro lavoro. Io sono personalmente molto contento e orgoglioso di vedere i vostri risultati. Quest'anno, quindi, con questo PDF vi mostro il lavoro fatto dall'associazione nel corso del 2019 e poi, dopo la mia introduzione, parlerà Tonino Rensulli circa il nuovo processo di certificazione che stiamo avviando come associazione Blender Italia e poi darò spazio a chi vuole parlare dei propri progetti. Al momento siamo circa tre, se qualcuno si vuole aggiungere ci giostreremo il tempo che resta in maniera molto tranquilla e diplomatica. Allora, parliamo un poco, nel 2019 sono state avviate diverse attività seguendo, diciamo, gli obiettivi che erano quelli dello statuto. Vogliamo parlare, parlo prima di tutto, della Blender Conference, la seconda Blender Conference che è avvenuta a Roma a maggio 2019. C'è stata un'ottima partecipazione, abbiamo visto tantissimi lavori di persone molto esperte, professionisti del settore e anche lavori di gente principiante che forse doveva stare a casa come il sottoscritto. Sono stati pubblicati ben due numeri del Blender Magazine, il terzo è in fase di redazione proprio in questi giorni e dovrebbe essere pubblicato a novembre. La redazione è molto ricca, c'è molto materiale e quindi è una rivista che può diventare e deve diventare un riferimento per tutti quelli che in Italia studiano e lavorano con Blender. Abbiamo continuato l'operazione di sostegno allo sviluppo di Blender, siamo passati da gold sponsor a titanium sponsor ma è idea dell'associazione di fermarsi a livello titanium e non salire oltre seguendo le indicazioni specifiche di Tom Rosendahl che ci ha indicato di iniziare a finanziare le attività degli associati perché se cresce la community di Blender in Italia automaticamente cresce la forza di Blender nel mondo. Quindi è bene sostenere economicamente ma poi anche dedicarci a crescere come associazione. Infatti proprio per questo nasce quest'anno il premio Creo che l'associazione appunto si propone di fornire un booster economico a quei progetti che vengono presentati a concorsi in Italia e che si classificano nella finale. Quindi per chi lavora con Blender e presenta progetti se poi arriva in finale riceve, può ricevere un premio da parte dell'associazione proprio per poter continuare a lavorare. Poi quest'anno sono stati organizzati molti più eventi dell'anno scorso, l'associazione Blender Italia è stata presente a eventi e meet up in varie università, ricordiamo l'università della Calabria, eventi a Cosenza, a novembre ci sarà un'ulteriore presentazione a Roma a Tor Vergata, anche al Future City di Teramo e anche all'evento Mimos sempre a Roma. Quindi ci stiamo dedicando sempre di più anche a portare e a diffondere Blender a livello diciamo più istituzionale ma anche a livello più capillare in piccole città. Chiaramente a volte la distribuzione è specifica per le persone che si danno più da fare nell'associazione quindi magari è localizzato più in un centro che in un altro ma se ognuno prende questo come riferimento e può sviluppare e può portare l'idea di Blender nella propria comunità, nella propria località potremmo aumentare la numerosità di questi eventi e quindi diffonderci ancora di più sul territorio italiano. Prima di presentare la prossima slide invito Tonino Rensulli qui che parlerà del nuovo processo di certificazione e di formazione. Salve, buongiorno, allora io sono Antonio. Diciamo che dal 2019, quindi da quest'anno, è partita la nuova branca per quanto riguarda l'associazione italiana del gruppo formatori. Quindi il gruppo formatori si occupa in pratica di formare ovviamente, cioè di fare degli step per la formazione professionale per Blender. Essendo ormai un software abbastanza professionale quindi nasce l'esigenza di catalogare anche quelli che possono essere le zone di destinazione di uso del software. Ad esempio abbiamo trovato delle destinazioni tipo interior design, tipo animazione, rigging oppure generico, base, avanzato e per ogni formazione abbiamo ovviamente ideato un attestato e una certificazione. Serve ovviamente per formare futuri dipendenti che utilizzeranno Blender, future persone che sono interessate appunto all'utilizzo di Blender in campo professionale. Per quanto riguarda attestati e certificati vengono ovviamente rilasciati in seguito a un corso con un formatore BACT, quindi un formatore Blender Italia certificato e dopo aver ovviamente conseguito un esame con un formatore Blender Foundation chiaramente. Quindi esistono diversi livelli di certificazione, quindi come dicevo prima esiste la certificazione base, quindi uso generico del software, certificato avanzato che identifica l'uso avanzato del software e infine ci sono le varie specializzazioni che possono anche prescindere dai due livelli precedenti. Cioè se io ho bisogno di Blender ad esempio solo per la stampa 3D o solo per il design del gioiello io posso conseguire una specializzazione di Blender soltanto in quel campo. Quindi magari ci sono persone a cui non interessa l'animazione, il rigging oppure non interessa gli effetti particellari ma vogliono concentrare la loro attenzione su quello che è l'uso professionale del software, quindi l'uso che loro ne faranno nel loro campo specifico. Quindi abbiamo visto ovviamente dopo una lunga decisione, abbiamo discusso a lungo con il gruppo formatori per come realizzare appunto questo percorso e quale dovevano essere in base a quelle che erano le esigenze di utilizzo appunto di Blender nei vari settori, nei vari campi e quindi siamo arrivati appunto a quelle che erano le certificazioni. Quindi lì ci sono, questo è il certificato, questo che si può vedere professionale ovviamente in base al tipo di qualifica, presa ovviamente c'è il certificato base, il certificato avanzato, c'è ovviamente il bollino che identifica l'utente certificato. Ovviamente ogni utente certificato avrà un codice, quindi avrà un suo numero di certificazione che viene pubblicato sul nostro sito, quindi viene tenuto e poi ci sono i vari livelli. Quindi come dicevo, Advanced Knowledge che identifica l'uso avanzato di Blender, l'Expert User è un livello ovviamente di certificazione maggiore e infine c'è lo Specialist che potrebbe anche non, diciamo potrebbe anche non avere le due certificazioni precedenti perché lo Specialist è una persona che usa Blender soltanto per quel settore specifico di cui abbiamo detto prima. Quindi attestato in alto e certificato professionale sono in pratica due livelli differenti di specializzazione del programma. Allora l'ultima cosa per quanto riguarda appunto la formazione, oltre ovviamente alla formazione professionale di cui ci stiamo interessando proprio per aiutare le aziende che vogliono formare i dipendenti o persone che vogliono formarsi nell'utilizzo di Blender, ci stiamo in pratica, abbiamo stabilito come gruppo formatori di creare dei veri e propri open day per quanto riguarda Blender all'interno delle scuole, quindi con appuntamenti all'interno degli istituti scolastici, abbiamo iniziato da poco, Alessandro se ne sta occupando appunto anche in questi giorni in alcune scuole, quindi abbiamo un po' inserito diciamo questa sorta di appuntamenti proprio per dar modo ai ragazzi che frequentano le scuole di capire come funziona un software 3D, quindi iniziare ovviamente a parlare del 3D, vedere un po' qual era la storia e indirizzare anche i ragazzi magari che si possono appassionare alla materia e dare un punto di vista di quello che potrebbe essere per loro un lavoro futuro, quindi potrebbe essere appunto un indirizzo per quello che potrebbe essere una formazione futura. Quindi il tutto ovviamente cerca di diventare, quindi cerchiamo di coordinare appunto i vari interessi e le varie esigenze che ci sono di utilizzo del software, perché non tutti hanno le stesse esigenze, quindi alcuni magari hanno esigenze base del software, altri hanno esigenze molto più di uso esperto, mentre altri sono magari esperti ma specializzati in un campo, quindi esperti ma specializzati in un ruolo di utilizzo di Blender. Magari spesso utilizzano Blender come anche con aggiunta di add-on specifici per quel settore, ad esempio add-on per la realizzazione di design del gioiello, oppure di interior design, oppure implementando anche elementi diciamo extra rispetto a Blender, magari per arrivare in settori dove Blender come software generico non riesce ad arrivare, mentre con gli add-on ovviamente tutto diventa diverso e più specifico. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Va bene. Allora grazie Antonio. Grazie Antonio. Avete domande? Informazioni che volete? Ok. Allora siamo precisamente in orario e quindi io potrei dare a questo punto ampio spazio a chi vuole presentare i propri progetti. Al momento in lista c'ho sia tu con il tissue e anche tu con Giudan Nido. Chi vuole iniziare? Non fate iniziare a me, prego, vieni avanti. Ecco Alessandro Zomparelli, prego. Allora sono Alessandro Zomparelli, sono sviluppatore di tissue, una add-on che ho iniziato a sviluppare appositamente per il computational design. Quindi diciamo io nel mio lavoro mi occupo di progettazione, nasco dall'ambiente dell'architettura, poi mi sono spostato in maniera un pochino più trasversale, tra moda, medicale e un po' quello che capita. E questa qui è una add-on che ho iniziato a sviluppare proprio per coprire le mie esigenze di progettazione. Quindi mi piaceva Blender, mi trovavo a mio agio con Blender più che con altri software, mancavano alcune cose che mi servivano e quindi ho detto vabbè, anziché aspettare che qualcuno le aggiunga, le aggiungo io e poi le condivido. Insomma, perché non posso farlo io? E quindi l'idea era, insomma, proviamo a dare il buon esempio e vediamo di creare una community. Tra l'altro sono moderatore assieme ad altri del gruppo Blender for Computational Design su Facebook. Ed è bello vedere come la gente effettivamente dica ok, grande, c'è qualcuno che fa queste cose. Iniziamo a vedere cosa fanno le persone, uniamoci a questa community che comunque è una community internazionale perché è un settore abbastanza di nicchia. E in realtà la cosa bella è anche questa, perché sai che stai raccogliendo l'interesse e il contributo delle persone che si occupano proprio di quello lì, che quindi coprono quell'esigenza specifica. Vabbè, non entro nel dettaglio degli aspetti più tecnici, comunque nel talk in inglese ho coperto un pochino più queste cose, però cerco ogni volta di aggiungere tutta una serie di funzionalità proprio che mi servono o per le quali vedo che c'è un buco vuoto. E conoscendo Python delle volte possono anche essere molto banali, devi leggere un'informazione e creare un vertex group che te la renda. E ad esempio basandomi poi su questi tipi di sviluppi, assieme ai ragazzi di Wasp abbiamo iniziato a realizzare un add-on per il medicale che sfrutta questo processo per semplificare il processo di progettazione di busti ortopedici, ad esempio. E quindi una volta che ho iniziato a aggiungere le funzionalità che mi servivano, ho iniziato anche a realizzare add-on su misura, su esigenze ben precise. Comunque Blender, essendo un software estremamente potente, è la migliore piattaforma 3D che si può usare per fare personalizzazioni. È open source, si può dare al cliente la chiavetta con tutto funzionante e è perfetto così. Meno male, diciamo, questo è un po' il succo del discorso. Se avete domande di qualunque tipo... Allora, dove sei basato? Come nella talk hai detto, sono ad Abu Dhabi, sono in Libano, sono... Ok, allora, rimbalzo un po'. Però allora, io abito e vivo a Modena, insegno all'Accademia di Belle Arti a Bologna, dove sto cercando di impollinare un po' di Blender, anche lì. Per esigenze di un designer di prodotto, insegno nel corso di design di prodotto, chiaramente devo insegnare anche altri software. Blender non è in grado di coprire tutto il fabbisogno di un design di prodotto al momento, però dà una grande mano e può offrire spunti molto interessanti. E poi mi capita di fare diversi workshop internazionali, diciamo che essendo uno dei pochi nel settore del computational design e dell'architettura che porta avanti il discorso di Blender, di fatto mi chiamano anche un po' in giro per il mondo, proprio per insegnare questa cosa qui. Quindi ho ritagliato quella nicchia della nicchia della nicchia in cui non c'era nessun altro. Ok, ufficialmente ti invito a Catania, alla nostra università a fare qualcosa. Volentieri. Poi ci parliamo dopo. Volentieri, assolutamente. Altre domande? Curiosità? Allora lascio la parola. Io ce l'avevo un'altra domanda. Il dialogo con il mondo stampa 3D. Sì. Perché Blender in genere la gente fa queste cose virtuali, le guarda, le guarda sullo schermo e le lascia lì. Poi quando vuole stamparle si rivolge a un terzo, gli passa il modello che tipicamente non va bene. Come lo gestisci? Che esperienza ne hai? Che suggerimento puoi dare? Io in realtà vedo... Esiste una comunità italiana che fa queste cose? Allora io vedo in giro delle cose fantastiche a livello di visual che potrebbero diventare fantastiche se stampate in 3D, però la gente non ci pensa o pensa che sia molto complesso. Ci sono delle complessità da gestire, perché chiaramente finché fai un visual puoi barare proprio clamorosamente. mi ha visto come per semplificare il lavoro. Certo, certe cose sono anche care, sì. Perché se vuoi delle risoluzioni, delle cose pesanti, cioè io ho visto statuette alte così a 100 euro, quindi alla fine lo fai una volta, poi smetti un po' di giocare... E' chiaro che sì, non lo fai con troppa leggerezza, però secondo me sta diventando più abbordabile adesso la stampa 3D. E alla fine una volta che uno sa un po' come modellare in maniera corretta, si va a creare delle superfici che siano continue, chiuse, insomma rispettino tutti quanti i crismi del caso, dopo gli oggetti sono facilmente stampabili. La complessità dopo è iniziare a capire come funzionano le diverse tecnologie di stampa. Quindi al di là del discorso di andare a lavorare proprio sul percorso di stampa e fare delle cose più avanzate, però capire che ad esempio la stampa a filamento usa la gravità in qualche modo, è un elemento, un parametro, e quindi lavorare sulla verticalità dà un gran vantaggio in fase di stampa. Altre tecnologie lasciano la piena libertà, bisogna semplicemente tenere ad occhio gli spessori. Però sì, secondo me non è una cosa così tanto complessa, se uno è in grado di gestire bene la modellazione, che non c'è un po' di quelle cose lasciate al caso, e sa come ripulire il tutto, in realtà è abbastanza abbordabile, quindi penso che ci sono diverse persone in Italia che siano in grado di gestire questi aspetti. Il bracciale, maniglia della borsetta. Non so il prezzo, non so il prezzo. Spero che te l'abbiamo pagato bene, perché era un bello gente. Sì, 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 no, no, quello sì. Parte, vabbè, meraviglioso. Tissue si basa sostanzialmente sull'utilizzo della geometria, cioè della mesh, della skin della mesh. La mia domanda è, perché sono ignorante in termini di programmazione, c'è la possibilità di utilizzarlo anche nel volume? Eh, questa è una feature che sto pensando di inserire. L'idea è proprio quella di poter... Cioè, alla fine... Voxelizzare, diciamo. Sì, tecnicamente, ma in realtà è anche qualcosa che si può fare con un po' di magheggi in Blender, però si tratta chiaramente di semplificare e automatizzare. Però uno può, ad esempio, creare un modulo con tre array, si crea la ripetizione all'interno di un volume, con delle booleane e le dita incrociate, prova a estrapolare quello che è interno all'oggetto e con un po' di manovre, di altri modificatori, può, ad esempio, utilizzare questa strategia di svuotamento. Si possono già combinare in Blender con dei Vertex Group per creare dei gradienti, quindi, diciamo, la tecnologia consente già di fare degli svuotamenti volumetrici. Quello che volevo fare era, diciamo, replicare molte delle funzionalità che adesso in Tissue lavorano sulla superficie, proprio per creare lo svuotamento volumetrico. E... Sì, grazie. Altre domande? Vedi che... Primo che inizia poi porta... Allora? È solo? Va bene. Allora, grazie. Grazie, allora. Grazie. Applauso, 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 applauso. E adesso è il momento di... di Arturo Il Gabbiano nella persona di Luca Di Cecca. Ok. Siamo connessi. Facciamo vedere il trailer, visto che il mare di qualcuno non ha visto. Ok. Partiamo da questo. C'è l'audio, vero? No? Buona domanda. No, me l'aveva chiesto prima, me l'aveva chiesto prima, me l'aveva chiesto prima. Vabbè, lo vediamo senza audio. Oh, momento, allora. Aspetta. No, facciamo così, guarda. Esatto. Dove sta qui la, ragazzi? Da qualche parte qui. No. Oh. e niente l'attore Gabbiano è il tentativo è l'idea di poter riuscire a realizzare un cartone animato interamente in blender cercando di puntare un po' su una qualità un po' più alta rispetto alle cose che comunque diciamo è un prodotto che in realtà dovrebbe essere fatto da una produzione quindi in realtà ho cercato di impostare questo prodotto in maniera anche un po' troppo in là di quelle che poi erano le mie possibilità ma in realtà ce l'ho fatto Arturo e Gabbiano è una semplice storia tra un anziano Arturo e il Gabbiano la storia si basa su 4 gag e la cosa interessante è che l'anno scorso l'Alessandro che lo ringrazio mi ha mandato qualche giorno fa il link della presentazione dell'anno scorso lo faccio vedere qui tre slide dove praticamente c'erano l'idea che stava iniziando e tante cose sono cambiate nel frattempo il gruppo di lavoro si è allargato a montatori animatori sound design e tante altre figure ma insomma sostanzialmente sono contento di essere arrivato alla fine di questo progetto il trailer è ovviamente quello che posso in realtà mettere online perché c'è anche una distribuzione del corto che lo distribuirà nei festival ovviamente è tutto realizzato con blender questa è un'inquadratura di una delle scenografie e la grande difficoltà di questo corto è stata appunto la gestione di tanta geometria nelle tante scene è un corto che dura 5 minuti e è sostanzialmente stato realizzato in remoto questa era una delle tante goal che ogni sera abbiamo fatto nell'ultimo anno tra me Umberto che è il ragazzo che è un po' disperato che è il supervisor dell'animazione e Nicolas che vi invito qui a parlare di Arturo e della sua esperienza anche perché io ho fatto tanto però insomma non potevo fare tutto tranne chi poi alla fine ci ha lavorato e forse anche di più di me ciao a tutti io sono Nicolas praticamente io entro a far parte del gruppo a gennaio di quest'anno e soprattutto come animatore abbiamo fatto tantissime sessioni su Sinsketch con Umberto che appunto è disperato perché alcune pose non riuscivamo a trovarle nel modo giusto però posso dire che è stato un ottimo supervisor dell'animazione ho imparato tantissimo ho imparato anche tantissimo a lavorare con un professionista come Luca dove io arrivo con determinate conoscenze e mi trovo a lavorare con una persona che ne sa molto di più su tanti aspetti quindi non ho imparato solo animazione ma ho imparato anche come gestire progetti importanti di un certo livello il rig non li ho fatti io li aveva fatti lui ha usato sia Regify che Blendrig e come dicevo prima principalmente mi sono occupato di animazione sì è vero in realtà poi parliamo poco di Arturo dove ci sarà anche domani il talk nel theater e questi qui sono due personaggi principali Arturo e il Gabbiano e penso che tante cose ho postato su Blender Italia nel corso dell'anno e l'altro progetto invece di cui abbiamo parlato anche ieri è Giù dal Nido dove magari Nicolò sugli qualcosa di tuo sì una cosa su Arturo hai fatto un no no è Sagol è Sagol no no erano circa 7000 fotogrammi da renderizzare quindi comunque è stata una bella cercando di evitare il più possibile di fare compositing perché comunque la qualità che avete visto per esempio nel trailer non so se è ancora aperto posso c'è alcune scene per esempio del trailer queste qui sono tutte fatte su un solo render layer e comunque la qualità soprattutto sui dettagli è più alta nel senso è molto più facile raggiungere un livello di realismo più alto su dettagli su scene molto più larghe cioè dove comunque c'hai tante case tanta scenografia personaggi e tant'altro sono dovuto andare di render layer e compositing e la qualità un po' si abbassa anche perché ovviamente bisogna avere anche tante skill di compositing per far uscire bene il prodotto quindi in realtà la mia idea era quella di fare tutto assieme ma in realtà ti scontri anche con la realtà che comunque un prodotto del genere è comunque difficile da gestire soprattutto in termini di quantità di memoria e poi sinceramente lavorando con un piccolo computer è difficile proprio tocciare però in fin dei conti è stata comunque una bella esperienza comunque arrivo ed esco fuori con un prodotto e comunque filmo come regio di produzione insomma la possibilità anche di riportarlo qui ad Amsterdam avrei trovato un distributore che lo presenterà nei festival in tutta Italia quindi insomma molto bene e invece il giornal nido l'avete spero avete visto qualcosa ieri al talk e control ok e Nicolas dici qualcosa tu al progetto allora il fatto di aver conosciuto Belu che ha iniziato a lavorare con lui mi ha permesso di conoscere anche le persone che lavorano in light and color e a un certo punto nasce la necessità di rifare i modelli da capo e anche i rig io ho commesso l'errore di dire che a me piaceva fare i rig non solo mi faceva fare i rig e mi sono trovato in quella situazione in cui non sono io a fare il passo avanti ma tutti gli altri avevano fatto il passo indietro e mi sono guardato e ho detto va bene faccio il rig a zero esatto ed è stato veramente difficile perché man mano aggiungevo delle cose ai rig anche il modello cambiava doveva diventare sempre più curva l'ala o la parte dietro quando scende a mangiare deve rimanere sempre una curva quindi ho dovuto lottare un pochino con lo skinning e il rig poi mi avevano chiesto delle cose tipo quando chiude l'occhio deve apparire una riga deve vedersi solo quando le palpebre si toccano in determinate posizioni deve raggiungere quella forma e quindi è stato parecchio difficile pensate per esempio al semplice sistema IKFK quando l'uccellino decolla le zampe devono comunque seguirlo ma tutti devono avere lo stesso la possibilità di fare un overlap per esempio o un atterraggio e continuare a spostare FK a IK qua diventa complicato e quindi ho dovuto aggiungere il segui il corpo l'isola in rotation e tutte le cose però vabbè ce l'abbiamo fatta sono stati circa quasi tre mesi di rigging con tutti i personaggi e adesso sono uno dei cinque animatori del progetto e siamo più o meno a metà progetto siamo la sesta settima puntata su tre e non so se l'ultima slide sì questo è un frame del finale del progetto ovviamente è un prodotto per bambini piccoli per la RAI RAI Kids no RAI YoYo scusate e questo e poi niente semplicemente che siccome ha portato bene presentare il Arturo l'anno scorso qui magari diciamo che comunque inizieremo un nuovo progetto su un giocoliere però niente di più è nata l'idea in questi giorni e speriamo di portarlo all'anno prossimo finito tutto qui basta avete domande sul prodotto sul progetto? sì può essere stavo pensando comunque già dall'inizio è molto più difficile fare il rig per per il cartoon appunto per le deformazioni delle cose che per il gabbiano quindi poi dopo passare al gabbiano il gabbiano l'avete iniziato prima? ha fatto lui prima prima i rig li ho fatti io diciamo di questo di Arturo ok però per Arturo ho usato il brad rig molto semplice cioè molto semplice insomma come dire sì non avevi le esigenze di cartoon magari che sì ma diciamo che il brad rig si è adatto abbastanza bene cioè molto versatile su quello in realtà poi l'animazione in sé il tipo di montaggio che ho scelto per il corto ha molto poco acting è un lavoro molto di montaggio in realtà quindi in realtà quando ho iniziato il corto avevo impostato il cortometraggio sulle mie sulle mie possibilità nel senso io non sono un animatore professionista io sono comunque una persona che girovaga attorno a tutto quello che c'è nel mondo di D lavoro nel campo diciamo dell'audiovisivo provo a fare il mio prodotto alzando un po' la qualità diciamo della della resa però sono ben inconsciente che comunque non sono un mentor cioè non sono poi pian piano in realtà poi è un po' cambiata la questione partendo da uno storyboard molto serrato su azione stacco azione stacco azione stacco piano piano il progetto si è evoluto conoscevo Nicolas e comunque studia animazione e ha dato un suo contributo e niente tutto qui aggiungo solo una cosa in realtà sia Blenry che Regify sono estremamente complessi e hai una possibilità enorme di fare cose anche cartoon quindi in un certo senso sono Regify molto più complessi avanzati di quelli che ho fatto io per la produzione il discorso è per esempio il Regify degli uccelli del gabbiano non ha il footroll per esempio e non ha il follow body e tutte queste cose qua si possono aggiungere tranquillamente ma c'è una complessità dietro un Regify che magari rischi di perderci le ore a studiare per esempio a due sistemi di deforming bone io ne ho messo solo uno eccetera che ci stanno per quella complessità lì ma per quello che dovevamo far per giù dal nido non serviva a quella complessità e per come sono fatto io ci ho messo meno a rifarli da zero con le specifiche chiare dell'animatore che a dover andare a studiarmi la documentazione del Regify che magari ci perdevo tre settimane tra script python e deforming bone tutto qua diciamo anche perché poi questo progetto Arturo sostanzialmente non prevede chissà quante tipi di deformazioni animazioni giù dal nido invece è un po' più particolare c'è poi la richiesta dell'art director di arrivare ad alcune pose più allungate è più cartoon quello in realtà che questo questo comunque si mantiene in una certa stabilità visiva non andiamo a deformare troppo un po' più realismo diciamo c'è una certa astrazione nelle forme verso un cartoon comunque nel complesso i movimenti e il look tende comunque al realismo anche se poi non è realissimo però la parte più divertente è stata tutto il viaggio nel fare tutto il cortometraggio e le tante serate con le nottate con Nicolas e Umberto a finire il progetto insomma una cosa bella in realtà fare a parte il lavoro nel senso comunque portare avanti dei progetti personali e poi magari anche non trovarne un significato nel senso che comunque una motivazione c'è a portare avanti dei lavori che sembrano folli però poi certe volte magari ti chiedi anche perché lo fai per il piacere secondo me se uno ha il piacere e si diverte poi alla fine riesce a fare comunque cose carine va bene eccoci qua grazie ragazzi se non c'è nessun altro che vuole presentare il proprio progetto vi tedierò con il mio progetto personale allora per chi è stato alla Blender Conference di Roma a maggio per chi non c'è stato anzi io faccio una breve digressione come ho già detto mi sono avvicinato a Blender due anni fa perché avevo partivo da un partivo da un progetto precedente che era un sito internet dove avevo collezionato circa 300 fotografie del paese da cui provengono c'era inferiore in provincia di Salerno erano tutte cartoline del secolo scorso perché forse per motivi nostalgici non lo so mi piaceva raccogliere queste informazioni il sito andò molto bene ma l'idea dietro divenne abbastanza statica quindi avevo intenzione di farci qualcosa con questo enorme materiale fotografico perché si si vedeva una città che diciamo dopo il 1935 è stata totalmente modificata quindi una serie di palazzi sono stati demoliti e non c'è più nessuna traccia quindi l'unica mia referenza sono state le cartoline quando mi sono avvicinato a Blender agosto 2017 non avevo un'idea chiara di cosa fosse il software di quale fosse il potenziale che poi ho diciamo rovinosamente scoperto e sono venuto alla Blender Conference del 2017 lì ho visto appunto chi riesce a portare Blender ai limiti e la prima reazione è stata dove vado dove mi avvio però nonostante tutto ho parlato poi con Francesco Sidi ho spiegato la mia idea e lui mi ha dato delle indicazioni almeno su dove muovere i primi passi quindi seguendo tutorial nel tempo libero quindi nella notte nel weekend con mio figlio che dormiva in braccio a me ho iniziato a sviluppare i primi edifici ogni edificio è stato rifatto più o meno 20 volte perché quando c'è la curva di apprendimento tu credi di stare facendo una cosa poi ti accorgi che la procedura è totalmente sbagliata riparti da capo e anche questo è costato del tempo per cui in due anni ho fatto quello che probabilmente ciascuno di voi riesce a fare in meno di una settimana però è così ho quindi provveduto a realizzare diciamo a concentrarmi sul centro del mio paese quindi 10 edifici e più o meno in un anno sono riuscito a modellarli quasi tutti c'è stata una dura lotta diciamo tra un discorso di precisione dei dettagli e di approssimazione essendo le foto sostanzialmente del secolo scorso anche la risoluzione era molto bassa erano scansioni di cartoline ho cercato di comprarne il più possibile ma per altre non era disponibile proprio la fonte originale e quindi anche lì a volte facevo un modello poi improvvisamente su ebay usciva una cartolina diversa ad alta risoluzione ops guarda c'è un balcone e rifai tutto quanto perché lo sto facendo come diceva Luca prima è un progetto che ho iniziato molto per hobby per imparare un software nuovo perché mi piace imparare nuovi software e perché l'ho fatto per me per realizzare un prodotto che fosse in un certo senso una memoria storica ma anche un prodotto vivo che potresse anche attrarre l'attenzione della gente del posto dei miei concittadini quindi ho avviato la prima progettazione nel 2017 e sono riuscito diciamo a ricreare chiaramente con errori di proporzione gli edifici questi due che vedete il caffè romano e questo con le colonne non esistono più partendo proprio da questa precisa cartolina ho ricostruito diciamo gli edifici ho usato delle texture molto grossolane ho usato sostanzialmente un effetto noise per creare un po' con l'effetto di stucco ma era più per arrivare alla presentazione di maggio 2019 e devo dire che un grande stimolo per andare avanti in questi casi quando fai un progetto che per hobby non sai dove va e non sai quanto tempo hai a disposizione e quanta voglia essere diciamo invitato o andare alle conferenze e presentare il progetto ti porta ad avere una scadenza mentale e dire ok a maggio c'è la presentazione adesso ho sei mesi di tempo e poi scopri un mese prima che ancora non hai iniziato e quindi è andato così ma quando ho presentato a maggio diciamo questo è un estratto della presentazione quindi il percorso completo che sono più o meno 50 metri ho presentato poi una settimana dopo lo stesso progetto nella mia città nella biblioteca comunale grande successo gente in piedi gente appesa alle pareti mi hanno intervistato le varie riviste locali e sono anche finito in televisione quindi partendo da un'idea diciamo quasi un progetto un sogno mentale ero riuscito ad arrivare dopo un anno più o meno a questo risultato ma dopo questa presentazione anche qui avendo fatto i dieci edifici qui ci sono vari sviluppi eventualmente si possono importare gli edifici in un modello di realtà virtuale per consentire anche dei percorsi a scopo culturale per musei eccetera ci sono varie collocazioni di questa idea ma quella che secondo me poteva attrarre e può attrarre l'attenzione del pubblico generale non dei tecnici e proprio fare un corto di animazione un cortometraggio un filmato quindi l'epoca storica che ho scelto è il 1934 quindi in pieno fascismo perché perché sono nel 34 più o meno sono certo della presenza di questi edifici e di questo assetto urbanistico ma da lì a due anni sarebbe cambiato tutto quanto quindi questa faccia della città poi non sarebbe più esistita e allora dopo diciamo la conferenza tra virgolette a Nocera gente è venuta a bordo per aiutarmi quindi qualche amico scrittore è iniziato a stendere una serie di discorsi che possono venire tra i protagonisti abbiamo iniziato a fare una ricerca storica per non arrivare a dire banalità o fare errori temporali e dal punto di vista del progetto in sé sulla modellazione è venuta ad aiutarmi anche Nicolas D'Amore che è rimasto piacevolmente sorpreso dal progetto e quindi insieme a lui nel momento in cui ho iniziato a lavorare con lui come quando chi improvvisamente si trova davanti a una montagna capisce la differenza abissale della tua competenza mentre prima dicevi è tutto sommato dopo un anno me la sto cavando poi scopri lui ti fa quelle due tre referenze che cadono nel tuo vuoto di ignoranza e dici oddio ok però ci siamo rimessi in moto la mia idea era appunto di levare tutte queste texture che sono state fatte nella fretta rimodellare la strada a raggiungere dettagli che sono arrivati da altre cartoline e procedere diciamo per l'anno prossimo ad avviare un crowdfunding per riuscire a ottenere i fondi per realizzare un prodotto che possa avere un product value sostenibile quindi magari riuscire a concludere il tutto in due tre mesi e poter poi lanciare il corto di animazione però questo è ancora come sempre tutto nella mia testa vedremo nel 2020 come andrà questa è una versione diciamo aggiornata del prodotto l'edificio del comune che vedete sulla destra è stato già modificato dalle sapienti mani di Nicolas e si vede ho aggiunto questi due personaggi che saranno i protagonisti della storia e tutti gli edifici che vedete ancora col clay rendering saranno devono essere corretti perché nel frattempo il comune ha visto questo progetto e sono stati molto disponibili a darmi tutte le facciate dei progetti degli edifici che esistevano ancora e si sono impegnati a trovare qualcosa degli edifici che non esistono più ma come ho già detto è abbastanza impossibile però già con quelle facciate io sono riuscito a correggere degli errori prospettici mentre sulla larghezza e la lunghezza di un edificio posso rifarmi come referenza a Google Maps però all'altezza non riesco a calcolarla non essendo io architetto io ho studiato economia mi fate vedere un edificio può essere alto 4 come 90 metri non so dirlo però ecco adesso sto procedendo a correggere gli errori strutturali degli edifici mentre Nicola si è impegnato nella fase di texturing e poi ci occuperemo dell'animazione nel frattempo le luci sono state messe ho creato una serie già di camere per capire più o meno a quali parti degli edifici ci dobbiamo dedicare e questo è quanto siamo riusciti a fare da maggio ad oggi per il prossimo anno spero di portare avanti ancora questo progetto perché la vita come succede a tutti ci porta sempre delle aspettative ma anche degli imprevisti e l'imprevisto porta sempre una dilazione nella realizzazione però sono soddisfatto del risultato stasera presento in 5 minuti questo progetto a Lightning Talk e considerando che è partito due anni fa da un'idea e un caffè sono molto soddisfatto del risultato domande sì c'è il microfono lì alla tua a destra mi viene in mente una cosa che magari ti è già venuta in mente visto che il comune sicuramente non ha tutte le informazioni perché non chiedere alla gente agli abitanti foto di famiglia renderli partecipi di questa cosa culturale magari esce fuori roba che non pensi che esista buona domanda questa è stata questa fase è stata iniziata prima del progetto di Blender nella raccolta fotografica ho battuto un po' a tappeto tutta la città fotografie ce n'erano effettivamente poche localizzate in vari bar però ecco se mentre le foto avevano una distribuzione localizzata negli anni 70 le cartoline delle 300 cartoline il 70% erano degli anni 30 quindi per quello si è anche esaurito lo scopo del sito perché io avrei voluto fare nell'arco dei 100 anni ma la disponibilità fotografica era dei primi 50 quindi però quel percorso è stato fatto sto cercando in fondo adesso non si vede però c'è anche una chiesa sto cercando tramite la parrocchia di vedere se loro hanno ancora eventualmente le mappe però questo è abbastanza raro forse qualcuno mi dice vai all'archivio di stato a Roma però devo capire se porta un risultato o no perché da profano non saprei nemmeno dove andare arrivo all'ingresso e poi mi fermano lì e non mi fanno andare altre domande? no? e allora ragazzi con 7 minuti di anticipo potrei considerare la riunione chiusa grazie per aver partecipato significa molto perché siamo italiani e veniamo in Olanda a promuovere noi stessi ma anche a sentire quello che c'è di nuovo per trarre ispirazione al nostro lavoro continuate a seguire le attività dell'associazione per il futuro se avete idee progetti parlatene con la comunità perché si ha sempre un feedback positivo nel breve o nel lungo periodo quindi magari un'idea che oggi sembra di difficile realizzazione come poteva essere la mia con un paio di indicazioni da parte dei più esperti se non altro sono riuscito a evitare due o tre mesi di tentativi errati quindi questo è molto importante prego una domanda nella comunità è possibile trovare persone che si occupano di programmazione in Python che si occupano di sviluppare per Blender o solamente progetti già di uso del programma la comunità è abbastanza diffusa capillarmente sulla penisola e ci sono esperienze varie c'è una scarsità di animatori come dice anche Ton però credo ci sia anche qualcuno con un forte background in Python quindi basta semplicemente chiedere spiegare più o meno a che punto vuole arrivare il progetto sicuramente qualcuno in grado di indirizzarti o comunque di dire sì ho queste competenze secondo me si può trovare e qui qui non c'è più quasi nessuno ci siamo ci sei tu che tu ti occupi di una domanda operativa l'anno scorso appunto abbiamo fatto la conferenza a Roma a maggio i progetti per il 2020 i progetti per il 2020 sulla località ancora non è stato la località è data periodo spero maggio perché nessuno vuole andare in qualsiasi posto con la pioggia per quanto a maggio diluviava a Roma però sulla località ancora non ho non ho elementi da condividere non è stato ancora confermato io invito tutti a esserci perché è stata una bellissima esperienza cioè si è ricreato un senso di grande comunità di scambio è stato veramente a parte la location era fantastica sì è importante vedersi viso a viso perché solo su internet c'è una c'è una conoscenza molto parziale della persona poi dopo si si ha modo anche in una chiacchiera semplice e informale di capire il background e la profondità di conoscenza di una persona quindi a questo servono le conferenze come oggi altre domande no? e allora grazie a tutti e ci vediamo l'anno prossimo qui alla Blender Conference 2020 oppure ci vediamo chiaramente prima a Roma ma quello è l'appuntamento italiano e questo è l'appuntamento olandese grazie a tutti e a presto grazie a tutti grazie a tutti